Musica Noi non possiamo negarlo che abbiamo un problema in quegli ultimi minuti, soprattutto adesso abbiamo un po' la scimmia sulla spalla che ti angoscia, quando arrivi lì abbiamo fatto veramente tre minuti dove abbiamo rischiato di buttare via tutto quello che è di buono abbiamo costruito prima, questo è un punto a cui dobbiamo lavorare, ci abbiamo parlato speriamo che adesso questa vittoria ci porti via, però nello stesso tempo devo dire la verità che non è facile poi una volta che l'inerza tutta brindisina partire con un supplementare con quell'energia, con quella forza e con quella voglia di portarla a casa e questo mi ha reso particolarmente felice Non era semplice giocare senza il playmaker titolare, le frizioni anche dall'altra parte ma per Avellino c'era ovviamente l'assenza di un giocatore che è chiaramente leader Bisogna essere onesti fino in fondo, anche loro mancavano i due giocatori importantissimi come mancavano a noi, tra l'altro in green e Giovanni Pini con me è una costante adesso speriamo che in settimana che riprende sia veramente un valore aggiunto però è chiaro che noi secondo me abbiamo fatto una buona gara con Alex Hacker che si è veramente preso a carico di tutta la costruzione del gioco gli ha dato una grande mano Martin Lunen perché chiamava i giochi cercavamo di andare da Martin sul passaggio di apertura di qualsiasi gioco proprio per avere un controllo del gioco maggiore da parte di Martin che togliesse un po' di pressione al playmaker devo dire che Martin in questo è particolarmente playmaker aggiunto poi l'ha fatto un po' Ianes e devo dire che l'hanno fatto con grande dedizione con grande voglia peccato ripeto per quegli ultimi minuti dove abbiamo perso due o tre palloni uno con un alto e basso un altro veramente un po' di quelli che avevano paura di vincerla però ci sta, siamo esseri umani e capita anche questo vincere in emergenza fa sicuramente piacere però la domanda che la devo fare per quanto riguarda Toriannegrin per il futuro e quello che può succedere ora in cabina di regina vabbè ma è giusto, non c'è niente da nascondere Tauren ha avuto un infortunio che vederlo così non mi ha fatto dormire la notte io ero un metro da lui gli è entrato tutto un dito di hacker nell'occhio ha fatto un urlo che ha tirato giù il palazzo poverino e quindi adesso si è pulito tutto l'occhio del sangue vediamo come sta il suo occhio, come sta la sua retina come sta il bulbo oculare saranno un po' più precisi hanno detto lunedì o martedì i dottori adesso che questa cosa è andata meglio ecco intanto va un pensiero all'uomo, al ragazzo perché è stato veramente qualcosa di durissimo ecco poi dopo pensiamo anche allo sportivo e dovremmo essere bravi noi nel capire i tempi che ci diranno i dottori e soprattutto il mercato che cosa ci può offrire perché va bene giocare in emergenza però insomma si fa un bel po' di fatica ma anche per gli allenamenti anche per se uno gli viene un raffreddore ad hacker o la febbre che non può giocare ecco siamo veramente così messi un po' troppo con le spalle al muro però sono contento che i ragazzi sono stretti intorno lui ieri scalpitava ero in ospedale con lui scalpitava non si incapacitava perché non poteva visto che là fa niente tutto il giorno con occhio bendato perché non poteva venire a vedere la partita con quell'altro e invece deve stare assolutamente fermo a riposo in maniera che abbia un riposo maggiore per poter poi capire insieme ai dottori come intervenire a riposo